Allora quando venne qua, sai qua ce li devi portare? Perché l'alimentatore? Senza tutto ti pare? L'alimentatore è uscita a Tricolano Ma qua, sì, ma venne qua Ma se domani non vedi a Porto ce l'ha Ma stasera che la diamo? Sì, che la diamo stasera Eh? Eh, se non parti ti chiamo io allora, io ti chiamo Allora ti chiamo E va bene? Va bene, va bene Io vai in banca, prendere Va bene, va bene Ok Sì, sai bene Buongiorno Ciao 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 Grazie. 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 Bene. Ciao a tutti. Buona giornata. Ciao. e dai ma si mette in quella di prima eh è una bella si fa il mio tepito è una magica vedrai tante volte non andava tanto bene prima ma si prendeva anche i motivi quindi quelle che si vede in un site dove dà un po' Grazie. 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 No, perché sai, uno fa un lavoro, se lo vedi su tutto... La mia amica è portata a casa la di lupo che si la portava a casa. Io l'ho s'ho portata ieri sera che l'avevo a casa. Comunque bastava portare a casa questo, trappanarlo e montare un pezzo di quella. E basta, dopo c'è un'altra lingua. Oppure uno montava e montava. Visto che queste cose non succede male bisognava ripiegare in qualche modo. E lo chiedo con la mia amica. Beh infatti l'hai smontata però. Andiamo a fare un break. Stai bene? Sì. Tornando. Emerilitate. Però questo. L'abbiamo introdottoori. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 se si accende dammi le chiave non si accende molto allora, prima su qua era portato con una corda come era qui? come era qui? no, si vede bene adesso no, si vede bene si vede bene buon'espetta bene si vede bene in caso si vede in caso si vede in questo caso in questa in questa in questa in questa in questa tra ballerina una un po' no per incenda la worries speravo di avervi dato tutto il tempo per risolvere ma è tutta la 소� struggled in questo caso non десятua danno no in questo caso non Prendono un di quelli amplificatorini, sull'uguare. Ma quello lì non lo riesci lassù? Sì, allora... Vabbè scappo perché sono mia mamma... Ma chi è che mi ha preparato questo attimo? E' un po' di testa... Perché dopo non se ne sbatte... E' un po' di testa... 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 Dai dai spiegami... Allora cosa dovrei mettere il palcone, Matteo? Il palcone dovrei mettere un'antenna di quelle private... ma che buco ma così ma c'è il nome ma sì ma ma buon Grazie a tutti. 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 Abbiamo... Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 No, io però la faccio. Se vuoi ti faccio vedere le prese. Eh, va bene. Sì. Dobbiamo prendere anche Samuele Bersani. Eh, si può. Secondo me no. No, perché se... Se l'atteggiamento fosse... Se l'atteggiamento fosse... Sì. E' attaccato. E' attaccato. E' attaccato. E' attaccato. E' attaccato. No, non è l'attaccato. No, non è l'attaccato. Noi abbiamo fatto una cosa. E' attaccato. E non è l'attaccato. No, non è l'attaccato. E' attaccato. E' attaccato. E' attaccato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.